Ciao a tutti dal Cadave e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi si parla di un film uscito nei cinema italiani venerdì 11 maggio 2012. Come capite dalla mia maglietta, sono appena rientrato a casa dall'ultimo film di Tim Burton, Dark Shadows! Quindi, Dark Shadows, si diceva, ultima fatica del, secondo me, seminale e importantissimo regista americano Tim Burton, creatore di talmente tanti capolavori che io a dirveli non perdo tempo, ma vi faccio vedere qualche immagine significativa. Troppi, troppi gioielli. Effettivamente Tim Burton è uno dei miei registi preferiti, uno dei miei beniamini personali. Adoro quasi ogni cosa lui abbia toccato, in tutta la sua carriera, anche i suoi scritti, i suoi schizzi, i suoi disegni. E comunque sia, essendo uno dei miei registi preferiti, se non il mio registra preferito, sono estremamente un rompiballe quando si viene a parlare delle sue opere. E questo film lo aspettavo tantissimo, come ogni film che lui annuncia e decide di fare. Allora, vediamo un po' la sceneggiatura. Abbiamo Seth Graham Smith, già famoso per Orgoglio, Pregiudizio e Zombie, di cui vi ho parlato in un video per il canale di Nerd Lanterns. Poi, è anche colui che sta scrivendo, si dice, il seguito di Beetlejuice e soprattutto lo sceneggiatore di Abramo Lincoln, Vampire Hunter, a breve anche lui nei cinema. Col titolo italiano, la leggenda del cacciatore di vampiri che toglie tutto l'appia che potrà avere questo film, insomma. Andiamo avanti con Dark Shadows e le musiche di questo film sono ovviamente del sempre fedele a Tim Burton, Danny Helfman. Abbiamo poi un cast di primo ordine dove figura l'ormai classico Johnny Depp, collaboratore di Tim Burton, qui al suo ottavo film, mi pare, che interpreta il protagonista Barnabas Collins, ma poi abbiamo anche Michelle Pfeiffer, qui alla sua seconda collaborazione con il regista, che interpreta Elizabeth Collins. Poi nei panni della dottoressa Julia Hoffman abbiamo la moglie del regista, Elena Bonham Carter. Abbiamo Eva Green nei panni della perfita Angelique. Jackie Earl Halley, che è famoso a noi fumettari per aver vestito i panni di Roshark nel film Watchmen, che fa il servitore Willy. Poi John E. Lee Miller, famoso per aver interpretato Sick Boy nel film Trainspotting, nei panni di Roger Collins. Abbiamo Bella Headcoat nei panni del love interest del protagonista, Victoria o anche Josetta, a seconda delle situazioni storiche. La giovane ma molto promettente Clu Moritz, famosa anche per Blood Stories, remake americano di Lasciami Entrare. E infine Gulliver McGrath nei panni di David Collins, un giovane ragazzo che ha una parte abbastanza importante nel film. Abbiamo poi qualche incredibile, come si può dire, cameo di Christopher Lee, che fa un'improvvisata come una specie di capitano Findus del peschereccio. E soprattutto del cantante rock Alice Cooper, che interpreta se stesso in una parte anche molto divertente. Di che cosa parla questo nuovo film? Allora, questo film è tratto da una serie tv degli anni 60 americana, appunto intitolata Dark Shadows. Parla della famiglia Collins e di questo suo antenato Barnabas, che dato che non ricambia l'amore che una strega prova per lui, decide di maledirlo, uccidere la sua amata e farlo diventare un vampiro. Dormirà chiuso in una vara per due secoli e si sveglierà nel 1972, dove si troverà a dover conoscere la sua nuova famiglia, la sua nuova epoca culturale e comunque combatte ancora contro i vecchi malefici e le vecchie streghe per tornare a vivere una vita dignitosa. Allora, questi in soldoni erano il cast, la trama, la tecnica e tutta la gente che ha lavorato a questo film. Veniamo adesso alla parte più... di cui più ho voglia di parlarvi perché è comunque un film abbastanza atteso e anche... si sa anche bene di che cosa parla. Questo era proprio un sunto. Allora, parliamo subito com'è questo film. Io, come dicevo prima, sono un grande fan di Tim Burton e quindi per me... un film di Tim Burton... scusate ho dei capelli tremendi ma vabbè... un film di Tim Burton è sempre una buona occasione per vedere come sta il mio amico Tim in quanto a... a tecnica, insomma, come è messo. Allora, secondo me negli ultimi periodi, da Sweeney Todd in poi, ha avuto un attimino una caduta il nostro regista perché già la fabbrica di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato non è niente di che. Non è un brutto film ma non è neanche un capolavoro. Se poi, certo, si discosta tantissimo dall'originale con Gene Wilder, ma se è paragonato a quel film è molto, molto... scialbo, proprio dimenticabile. E poi ha fatto quella cosa lì che è Alice nel Paese delle Meraviglie che io ho davvero odiato perché lo trovo un film senza anima, fatto di fretta e di base molto brutto. Com'è questo Dark Shadows? Secondo me c'è una leggera ripresa perché le... come si può dire... la messa in video, la resa in scena di questo film è davvero epocale. I costumi sono bellissimi, la fotografia fantastica, gli ottimi, ottimissimi, davvero gli effetti speciali ed è comunque una regia virtuosa ma sempre semplice. non so come dire, mantiene fisso quello che vuole dirci e la storia scorre via abbastanza liscia visivamente parlando. Il problema di questo film è che vuole mettere troppa carne al fuoco, infatti non è che prende la storia di Dark Shadows e sui personaggi ci immagina qualcosa di nuovo. fa una specie di riassuntone della serie tv e che prendere una serie e ridurla in due ore di film tante cose vanno a sacrificarsi, insomma diciamo che non c'è una narrazione coesa tra se stessa nel senso che la storia di base, la trama racconta di un amore perduto, quello tra Barnabas e Josette e un amore impossibile, quello tra Barnabas e la strega Angelique. E questa storia d'amore si dipana anche la storia di Barnabas e la famiglia Collins e la ripresa del potere economico e commerciale della famiglia Collins che abita a Collinswood e quindi una città addirittura fondata sul loro buon nome che era fondata sul mercato del pesce. solo che viene dato molto troppo peso alla parte quasi burocratica del film e secondo me questa cosa toglie molto del ritmo perché molte sequenze divertenti molto accenti che si davano sulla storia familiare della famiglia Collins si vanno un po' a togliere quando poi si va a parlare di tutte queste beghe queste menate politiche che chi se ne frega, no? E poi un'altra cosa secondo me è una certa staticità nel senso che le situazioni tendono a ripetersi almeno tre volte durante il film si avrà sempre una stessa scena e che dopo un po' viene a noia personalmente io ho trovato l'ultima parte di film, l'ultima mezz'ora molto pesante ma non pesante perché è fatta male o poco interessante ma perché è quasi casuale c'è una specie di battaglia finale tra le forze del bene, Barnabas e le forze del male, Angelique che davvero è spettacolare sa anche essere divertente ma è davvero troppo lunga e a volte, a volte, anche quasi fuori luogo e questa cosa, questo insiste su determinati argomenti non mi è piaciuto, non mi è piaciuto l'ho trovato proprio quasi per allungare il brodo si poteva togliere una buona mezz'ora dal film secondo me gli attori ovviamente sono tutti in gran forma Johnny Depp come si discuteva con i miei amici a me, personalmente, un bravo attore un bellissimo uomo mi piace tanto, proprio come attore quando lavora con Tim Burton secondo me riesce a cavargli il meglio dalla sua arte e in questo film, complice un trucco e dei costumi per lui meravigliosi infatti il personaggio di Barnabas visivamente come personaggio anche mi sono completamente innamorato dà un'ottima di sicuro una buona performance Michelle Pfeiffer Elena Bolan Carter sono tutti ottimi attori il punto è che avendo un cast tanto grande e un film di base corale il film in realtà non è corale si basa su Barnabas e il tempo on screen dei vari attori dei vari personaggi non è proprio, come si può dire sfruttato a dovere perché abbiamo come ottimi caratteristiche come Jackie O'Reilly che fa una buona parte ma comunque sia lo vediamo per un totale di 10 minuti su due ore di film quindi anche qui abbiamo un ottimo cast sfruttato non male ma poco io avrei spremuto un po' di più questi grandissimi un merito va a questo film di avermi fatto apprezzare tantissimo sia come attrice che come bellezza proprio Eva Green che io avevo già visto in Franklin avevo visto in 007 oh cavolo non era Quantum of Solace oh beh comunque il primo 007 con Daniel Craig scusatemi sono un po' svampito e soprattutto The Dreamers di Bertolucci un film che non mi ha mai fatto impazzire ma comunque l'ho visto perché è incuriosito questo film Eva Green dà un'ottima performance perché a fare comunque la strega cattiva e affascinante è davvero secondo me brava sono rimasto molto stupito di lei ed è effettivamente bellissima in questo film cioè secondo me è davvero bella non l'avevo mai vista con gli occhi come dire che bella donna certo ho sempre pensato posso avere la donna ma in questo film è proprio tanta tanta roba un'altra cosa che volevo dire è che la sceneggiatura alterna momenti molto brillanti a momenti di stanchezza infatti secondo me non è che sia Tim Burton il problema del film perché lui si è svegliato un po' fuori secondo me questa è una storia che voleva raccontare e per quanto può la racconta bene è proprio la sceneggiatura che a volte è statica e infatti io dopo aver visto questo film sono leggermente preoccupato per Beetlejuice 2 perché io sono un grande fan del primo e se il secondo film scritto dallo stesso Smith che ha scritto questo soffre degli stessi problemi potrebbe risultare un po' opaco e la cosa mi farebbe molto dispiacere un'altra cosa che ho notato è la colonna sonora Danny Elfman è un grandissimo compositore con Tim Burton ha sempre dato il suo meglio secondo me ma in questo film le musiche sono tutte molto belle accompagnano perfettamente le scene d'azione come le scene più drammatiche il punto è che non sono memorizzabili non me le ricordo non sono memorabili ecco mentre invece l'uso sapiente del colonna sonora di musica comunque degli anni 70-60 quello invece è davvero secondo me molto interessante e ben sfruttato vedi musiche di Black Sabbath c'è Paranoid dei Credence Clearwater Revival o anche dei Carpenters o anche dei di Alice Cooper per l'appunto che fa una comparsata e questa scelta e poi c'è una scena che io ho trovato molto carina con Barry White di sottofondo molto divertente e un'altra cosa che mi ha stupito è stata comunque la decisione di non rendere il personaggio del vampiro Barnabas un vampiro troppo romantico di base lui è un vampiro a sete di sangue e ogni tanto lo vediamo nutrirsi e non risparmia nessuno anche persone che non se lo meritavano quindi che cosa dire un film che io aspettavo ho goduto dalla prima all'ultima scena ma essendo io grande fan di Tim Burton volevo vedere il meglio e non ho visto il meglio perché mi ha leggermente annoiato verso il finale il mio voto quindi a questo film è un comunque sia è un set perché è fatto bene ben recitato ben girato degli effetti speciali dei colori dei costumi meravigliosi è proprio che manca di coesione la trama manca di coesione e questo secondo me è un problema comunque io sono molto contento di averlo visto lo aspettavo me lo sono visto di sicuro lo rivedrò quando avrò possibilità e sono contento di aver visto un regista risalire la china un regista che io adoro in praticamente tutto l'ora fatto e adesso Tim Burton Frank and Winnie se tu non lo fai bene io vengo sotto casa tua e ne discutiamo io e te ma sono sempre fiducioso io oh sì che lo sono ragazzi qui dal Cadave un saluto ci vediamo alla prossima ciao ciao